Devozione a San Germano Martire, venerato in Altavilla Silendina, nella cripta o sul corpo della chiesa di San Biagio. Oggi, 26 maggio 2023, ricorre l'anniversario, il 244esimo anniversario dell'arrivo delle sacre reliquie di San Germano in Altavilla Silendina. Era l'ultima domenica di maggio del 1779 e da allora la ricorrenza annuale, la festa di San Germano, cade nell'ultima domenica di maggio. Fino a qualche, in passato, vi era anche la fiera, sabato precedente, l'ultima domenica di maggio, la novena a San Germano, prima della chiusura della chiesa in seguito al sisma del 1980, poi comunque riaperta nel 2012, la processione, l'ultima domenica di maggio, che è stata fatta poi fino a, in fine, tra la fine e l'inizio del secolo scorso, quindi fine anni 90, inizio del 2000, ho questo vago ricordo della processione di San Germano, io ero piccolo. Peccato, peccato, che la devozione a questo santo sia quasi scemata del tutto, nessuno più se ne ricorda, direbbe qualcuno, che vergogna però, a sante vecchie non si è menangienza. Non è così, non è così, anzi, dovremmo impegnarci un po' tutti a far sì che questa devozione continui, almeno quel poco che ci è rimasto negli anni a venire, nei secoli. Ma per questo diciamo che anche i sacerdoti, non l'attuale, per carità, i sacerdoti del passato, hanno marciato un po' contro, hanno rimato un po' contro il popolo, quando si sono tolte di mezzo tutte le processioni, le tradizioni, le novene, i candi antichi. Eh, che serve fare questo? Eh, che serve fare quello? Eh, che serve la processione? Eh, che serve quello? Fatto sta, togli, 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 togli. E chi è rimasto nella chiesa? Sicica e Zia Maria? Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Prima si partecipava. Eh, prima è vero, magari era fede anche un po' Un po' da evangelizzare, questo sì, da evangelizzare sicuramente la pietà popolare, cosa buona e giusta, la chiesa in uscita, eh, noi parliamo. E che hanno fatto alla fine? Che cosa è cambiato nel cuore delle persone? Io di certo non vedo miglioramento, anzi, chiese sempre più vuote. Le persone anziane che muoiono e i giovani certamente non continuano, non partecipano alla vita religiosa del paese. Questa è un po' una realtà però di tutti i paesi, eh. Però in passato si poteva un po' conservare, almeno le tradizioni, quelle più importanti, come la processione di San Germano, San Biagio, Santa Lucia. Erano queste comunque feste, processioni secolari. E con la scusa non c'è nessuno che porta le statue, il freddo, la pioggia. E com'è? Prima si facevano grandi sacrifici. I nostri antenati veramente si privavano per la chiesa, facevano dei sacrifici veramente in mani. E poi pure condannati, questi poveracci. Dagli altari, come per gli ori, il tesoro di San D'Antonio. Condannate le persone che hanno donato un oggetto d'oro a San D'Antonio, ma anche come se fosse opera del demonio, Gesù Cristo sia con noi. persone che veramente si sono private di un oggetto d'oro che l'hanno offerta al Santo o alla Madonna per una grazia ricevuta. Quell'oro è pieno di lacrime e sudore di queste persone. È una testimonianza di fede, una testimonianza di grazia ricevuta. È vero che è erroneo pure metterlo addosso ai Sandi, non è... sa quasi un po' di paganesimo la cosa, vabbè, lasciamo stare. Anche se negli altri paesi, in alcuni, in molti paesi, ancora si continua, io vedo, meno male che abbiamo, che siamo nell'epoca della globalizzazione, nell'epoca della tecnologia, e con un click possiamo vedere pure quello che si fa in America. E io vedo che negli altri paesi i Sandi sono il King Roar, cioè ancora si continua a mettere gli ex voto addosso alle statue, ma alla fine non è che poi c'è così di tanto male in questo, eh. almeno se non vogliamo metterlo addosso alla statue, appeso alla statue, magari in una teca, ma comunque deve restare quello come segno di grazia ricevuta, come simbolo, come attestato di grazia ricevuta. Addirittura si diceva che, non lo so, il tesoro di Sant'Antonisi è stato venduto, non è più tutto l'or, non lo so. Su questo stendiamo un velo pietoso. Torniamo a San Germano, va. Non so come, insomma, il ragionamento è andato, è continuato, è andato un po' oltre i limiti. Quindi dicevamo, ricorre oggi la festa di San Germano, ricorre il suo ricordo nell'ultima domenica di maggio, abbiamo questo questo corpo santo, ecco, che questo pure sarebbe un'espressione impropria, perché in realtà sono delle reliquie di questo martire, di quest'uomo che ha donato la sua vita pur di non rinnegare Cristo nei primi secoli del cristianesimo, queste ossa rivestite poi di seta ricamata con filigrana in argento e in oro da far sembrare quasi poi, ecco, un corpo imbalsamato, ma in realtà sarebbe bene parlare di sacre reliquie, anche se sempre in rispetto della tradizione, il rispetto degli andenati che hanno detto sempre il corpo di San Germano, ma che diciamo corpo e che diciamo sacre reliquie, voglio dire, continuiamo, continuate a dire corpo di San Germano, sapendo però che in realtà sono delle reliquie, però continuiamo a dire corpo di San Germano, addirittura si diceva prima, io mi ricordo, sono giovane, tengo 30 anni, però ricordo quando ero bambino qualcuno diceva là c'era un santo in carne e ossa, dicevano addirittura che era in carne e ossa, anche se, capito, sono delle ossa, rivestite voi di questa guai di questo vestito di seta. Qualcuno poi chiede Germano, è santo, non è santo, il nome non è il suo, diciamo subito che quando queste ossa venivano riportate alla luce dalle catacombe romane donate poi alle chiese prestigiose dell'epoca, gli si dava un nome convenzionale, un nome che richiamava comunque delle virtù cristiane, Germano, cioè da latino, fratello, fratello in Cristo, fratello nella fede, quello significa, non è certamente il suo vero nome, come ad esempio a Tortorella c'è San Felice, Felice, cioè Beato, stessa storia di San Germano, quindi queste ossa che sono giunte poi lì in Tortorella, ad Altaviglia Erpina San Pellegrino, ecco, Pellegrino, San Donato, Donato perché Donato a quella chiesa, il fatto poi che San Germano sia un santo o no, chiaramente è un santo, anche se di certo non è stata fatta una causa di beatificazione, di certo il suo nome non figura nell'albo, nell'indice, nell'elenco dei santi venerati dalla Chiesa Cattolica, però già il solo fatto che sono ossa appartenute a un martire, cioè a una persona che ha dato la sua vita, che si è fatto ammazzare pur di non rinnegare Gesù Cristo, pur di non rinnegare la religione cristiana, ha sparso il suo sangue quando infuriavano le feroci persecuzioni contro i cristiani nei primi tre secoli del cristianesimo, già questo è indice di santità, già questo significa che quest'uomo è santo, che la sua anima è volata dritta al cospetto della Santissima Trinità, quindi Germano è certamente un santo, corpo santo di Germano, anche se dobbiamo sapere che sono delle reliquie delle ossa rivestite di questi vestiti anche molto pregiati che lo fanno apparire come un corpo quasi imbalsamato, ricamate proprio sul corpetto, sul vestito di San Germano troviamo due lettere dell'alfabeto greco i, chi e ro in greco, quella x e quella p che indicano proprio il nome di Cristo, alfabeto greco, poi c'è il cartiglio, cioè un un po' di proprio di carta, ecco, un pezzettino di carta dove c'è scritto in latino San Germanus e poi un altro elemento importante che troviamo nella cassa, nell'urna che era chiudere le reliquie di San Germano c'è un'ampollina, mi sembra che siano proprio due, comunque una è sicuro, una o due ampolline che secondo qualcuno almeno dicevano così in passato che, ma non è non è cosa certamente vera, che in quelle ampolline c'era il sangue di San Germano, però non è possibile perché se abbiamo detto che è stato riportato alla luce dalle catacombe di Roma ovviamente il sangue non era stato di certo raccolto e quindi di sicuro non è sangue, qualcuno invece dice che ci sono degli aromi, degli aromi quindi che sprigionano un odore gradevole. La leggenda poi vuole che la palma simbolo del martirio che Germano porta la sua mano rinverdiva ogni anno proprio durante la festa nell'ultima domenica di maggio e che doveva essere anche un po' spundata quasi cresceva ma questa ovviamente è una leggenda che Memoria Duomo non ricorda questo episodio. Ma come il corpo di San Germano è arrivato in Altavilla Silentina? C'è un libro che parla proprio di questa storia ed è un libro scritto da Giuseppe Galardi proprio in occasione del bicendenario dell'arrivo del corpo di San Germano 1979 200 anni e si intitola proprio così il libro il titolo dice l'arrivo del corpo santo di Germano in Altavilla Silentina anche qui vedete corpo santo lo mette tra le virgolette quindi proprio per far capire che l'espressione non è proprio corretta e dice qua la tradizione vuole che l'acquisto del corpo si deve ai meriti personali del sacerdote Giuseppe Perrotti quindi grazie a questo sacerdote del clero di San Biaggio soppressa la badia di San Nicola in Gondrone le rendite furono devolute al cardinale borghese di Roma che riscuoteva tramite un prete del luogo quando successivamente Don Giuseppe Perrotti fu nominato vicario ed incaricato di riscuoterle esse si elevarono di colpo dai 200 ai 300 ducati annui mentre non superavano i 30 secondi rendiconti del prete gondronese il cardinale quindi notata l'onestà del Perrotti pensò di sdebitarsi e di ricompensarlo proponendo in dono un corpo santo sapendo che in quegli anni se ne tiravano fuori dalle catacombe a Centinaia quindi grazie a quest'uomo per la sua precisione per la sua onestà Altavilla ha ricevuto questa reliquia quindi in realtà era lui che doveva prendere doveva averla proprio come come dono personale però siccome poi non aveva non immaginava che ci volevano anche se apparteneva a una famiglia nobile non immaginava che ci volessero poi tanti soldi per confezionare il vestito per la cassa il legno e per il trasporto da Civitavecchia via Mare alla Foce del Sele quindi dovette chiedere aiuto al popolo d'Altavilla e il sacerdote di San Biaggio l'arciprete Don Garmine Cembalo accettò quindi con una raccolta popolare o comunque con i soldi conservati tra virgolette in cassa riuscirono poi il clero di San Biaggio riuscì ad avere il corpo di San Germano che fu rivestito fu preparato e arrivò poi ad Altavilla nell'ultima domenica di maggio sostò per un po' di tempo alla contrada San Giovanni si chiamava San Giovanni inizialmente oggi San Germaniello proprio al ricordo e poi percorse non la strada del muraglione che non era percorribile all'epoca era una via mulattiera probabilmente ma la la temba di Pilato anche perché la cassa veniva trasportata da i buoi da un era messa su un carro trasportato dai buoi c'era una leggenda pure qui simpatica con tutto rispetto delle tradizioni del passato che diceva praticamente che quest'urna doveva andare ad Albanella quindi diventava pesante i buoi prendendo la via ad Albanella non riuscivano a trasportare il carro perché pesantissimo quando poi si andava verso Altavilla invece tra virgolette si alleggeriva questa questa teca quest'urna e i buoi riuscivano poi ad attraversare la strada verso Altavilla quindi San Germano voleva andare ad Altavilla ma in realtà questa è una leggenda che ha costruito il popolo ma non è così perché già proprio ai primordi proprio all'origine dei documenti Cartacanda San Germano le reliquie di San Germano donate al Perrotti il sacerdote Giuseppe Perrotti dovevano venire comunque ad Altavilla Silendini una leggenda quindi questa che è stata diciamo inventata dall'animo popolare solenni i festeggiamenti nel 1779 per l'arrivo di San Germano che durarono otto giorni dal 26 maggio al 2 giugno nello stesso anno poi ancora solenni i festeggiamenti in occasione del primo centenario 1879 la processione poi con la cassa contenente le reliquie di San Germano e poi l'ultima volta nel 1979 il bicentenario stessa cosa quindi la processione con la cassa mentre invece negli altri anni ogni anno la processione annuale veniva fatta con con la statua di San Germano perché c'è sia la statua che del 1840 che la cassa contenente le sacre reliquie e poi c'era una canzoncina popolare che adesso vi faccio ascoltare vi recito che recitavano che cantavano o anche recitavano gli anziani e dice così San Germano protettore avanti a Dio stai a prià stai prianna lo signore che non ci vuole perdonare prianna lo signore prianna voi a Maria la grazia che vuoi cerchi non la puoi mai negare San Germano mio che bello santo da Roma è venuto questo corpo santo accompagnato con lo sacramento l'accompagnato nella stella lucente mamma Maria sarà messa a Lucante per se lo rimarrà ora in momento viate a chi lo serve a stu gran santo viate a chi lo serve e lo tiene a mente viate a chi lo serve e lo tiene a mente beate a chi lo serve e lo tiene in mente e povera noi non ci siamo scordati l'abbiamo abbandonato cerchiamo di come dire di risolvere di dare un po' più di devozione a San Germano ai santi che comunque sono protettori di Altamilla Silentina è vero che il padrone è San Degidio e pure là vabbè non ne parliamo chiudiamo parentesi Egido il protettore poi questi altri santi santi comunque non compatroni ma comunque protettori di Altavilla San Antonino San Biagio San Germano sono i santi che che da sempre il popolo ha nutrito particolare devozione le feste secolari del passato un po' più di